tiriamo la singola andiamo subito 5 stelle no ok speriamo che Andace ma che cavolo ma chi ti voleva adesso si odiano tutti Gabri in questa chat guarda che lo sapevo iniziano le offese vabbè cioè mi mancavano tutti e tre te ne manca tre ti dà uno e già incredibile 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 bene adesso c'è la multi la multi con il doppio 5 stelle quando vuoi ok beh almeno uno di due c'è perché non era sicuro magari usciva dopo l'84 ok la prossima è la 76 potrebbe esserci qua non schippare Gabri e fai skip ma che sei scemo è l'abitudine 86 77 78 79 è rischiato eh 80 quando sta 81 vabbè sarà l'ultimo e c'è solo lui eccolo eccolo qua eccolo qua quando stava ragazzi 81 o tira non si sa mai magari esce tigi ok niente niente tigi magari esce Kuki magari esce Kuki o saio qui possono uscire teoricamente eccolo oh mio dio l'ho ucciso il predikt la sbruca ho fatto il predikt vabbè dovete sapere l'anno scorso in questo periodo dell'anno a settembre Gabri fu il primo a pullare Raiden pullò Raiden c2 e poi la volò dalla scogliera così che tutti quelli che avrebbero pullato dopo di lui sia quel giorno che gli altri avrebbero vinto tutto quindi sacrifichiamo questo saino per permettere a tutti di vincere i loro 50 e 50 si muore da qui si penso di si se non se non plani si aspetta andiamo un po' più no così non muori più no dio buono lasciati lasciati cadere aspetta qua giù diventa più ripida guarda scegli te singolo eccetera come vuoi vai vai prima la multi si si così il risparmio preciso va bene prima la multi ok siamo a 70 così speriamo esca una cookie o una candy se non sinceramente saio che sinceramente ecco a posto bene io sono felicissimo questa bonna l'abbiamo portata a casa io lei volevo volevi lei ok ok dopo allora ancora meglio ancora meglio vediamo un po' se per caso uscirà un altro 4 stelle visto che era inizio multi magari anche candy proprio così almeno ti sei tolto proprio no ok no c'è solo questa vuol dire che adesso in fare queste singole visto che siamo a 70 una ti esce per forza un 4 stelle vediamo 71 eccolo qua vediamo un ras ce l'ho già r5 questo potevano anche tenerselo sinceramente 72 oh 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 e questo è per forza del banner dai candies no saio vabbè maledetta 73 ragazzi ragazzi saio ho bene capito che in questo banner vedremo molti saio 74 mamma mia che ansia allora si esce alla prossima ha vinto il sì se tu ragazzi si darei il no dai su sai no senza troppi versi vieni a casa ci sta da pullare anche sull'arma 75 ok potete rendere il no questo è il tempo che te l'ho gufata con tutti i punti ciao Corlina Morina come stai 76 porca miseria tu sta 77 no ora esce 77 me la sento eccolo 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 bono miam smash smash ok 37 oh oh oddio oh 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 no allora 28 aiuto 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 si 29 apiti 29 l'abbiamo presa oh mio dio ighi sono malissimo per te ti giuro ok visto che a firenze porta fortuna toccare il naso della statua del cinghiale vero vero il sedere della statua perfetto va bene dopo questa si può andare a letto no scherzo molti super pazza magari ci troviamo il doppio 5 stelle ok oddio 5 stelle la prima è la 75 ok la prossima è la 76 ok la prossima è il 4 stelle eccola kennis buono 7 7 78 79 si si lego si l'abbiamo presa l'abbiamo presa l'abbiamo presa stringiamoci tutti intorno alla fede incrociamo tutte le dita possibili immaginabili e andiamo ragazzi 5 stelle 75 la prossima è la 76 aiuto ok 77 si 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 l'abbiamo trovato l'abbiamo trovato fagli lo screen fagli 87 brava foto screen io penso vedremo un raggio dorato teoricamente poi cosa c'è vediamo ok ci siamo ci siamo questa è la 63 c'è la 64 spavento poi noi no allora te tirala multi poi ti avviso io cioè se te vedi 5 stelle avviso ecco appunto adesso fermi rimaniamo immobili ragazzi perché qua ci dobbiamo muovere nel senso che lei clicca un tasto e noi dobbiamo stare in attesa ok siamo sul sacrificial in questo momento siamo fermi sul sacrificial ok adesso vediamo allora porta sfortuna io lo sto dicendo che quello ancora no no niente basta archi basta archi noi sentiremo probabilmente fare la sua reaction di quello che vedremo oggettivamente facciamo le dita fede avanti esatto fede avanti col tempo è l'ultima della full noi adesso vediamo un arbringer of dawn è già uscita un'altra ecco bloodstain hai scelto l'arma oh me lo vale oh me lo vale oh ragazzi ce l'abbiamo fatta ok qui c'è per forza perché sai com'è quindi tiriamo potrebbe essere la prima c'è la prima full della multi la prima full della multi perché infatti guarda come tira la lagata perché c'è il 5 stelle ok questo è il 81 oddio fede oddio 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 fede io mi posso far terra no fede fede cioè qui c'è il dream della c2 capisci è un doppio nevrotico ma in questo secondo me lui è davide fermo 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 no no calmati stai già andando come un razzo fermo 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 allora fai rendere la scommessa respira porca miseria isterico come Davide allora ragazzi quando si pulla e soprattutto quando si pulla in live tra una singola e la successiva bisogna fare un respiro calmi allora se eravamo appiti abbiamo detto 30 adesso questo è il 40 avevamo 30 prima quindi siamo alla 32 in questo momento si andiamo 33 ok bravo questo è il ritmo 34 eccolo pt34 pt34 bene easy questo è proprio guarda lo scrivo in chat così fatto ma mi può riportare gg ez allora fra anto ti dice che questo è il blaster che ti ha fatto prima su discord mamma io ti faccio se non c'è di mezzare a parlare eh ci credo ci credo a me mi siete stemperati la tensione ez 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 ti senti ti senti e dice il traveller è meglio non te la meriti allora no no skyward voglio urlare però ragazzi ragazzi comunque è un catalyst è un amico del memory of toast questo è un catalyst e questa è la 64 tranquilla mai va bene va bene è arrivato anche l'elice ragazzi incredibile è lo stesso no se succede veramente più che altro io vado a giocare a loro porca troia franzo ma che cazzo c'è mai io non ho parole fidanzata cosa ha da dire non l'ho a dire pensa te amo che stasera tirerai le tue multe non ti uscirà nemmeno una hand e se con lui ha tutta sta roba e nemmeno una cookie eccola qua la falla della pizza è arrivata che andai di singole che andai di singole il che voglio pensare ho un'altra singola 77 nada ok scusate io sto rispondendo da mia mamma perché mi stavano mi sono andata a fare l'iscrizione in palestra e segnava eccoci niente non lo sto guardando guarda cazzo io ti invidio franzo porca miseria sarebbe la mia c2 ok adesso andiamo a 67 a 67 giusto davide no siamo a 77 andiamo a 77 ah ok bene l'abbiamo preso l'abbiamo preso vediamo dov'è vediamo se era prima delle early insomma ok ok 72 questa giusto 73 73 questa si 74 75 early ragazzi 75 early early pity andiamo ragazzi andiamo a pity 60 poi facciamo un'altra multiple andiamo di singole oh 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 aiuto oh mio dio siamo a 51 oh mio dio allora siamo a 51 nessuno l'ha trovata in questa multi qua non possiamo fare i predict di davide panico ok ok 52 53 53 54 miseria cosa davide aspetta cosa no no non me lo fare non me lo fare 55 non me lo fare mi fa solo più ansia 56 come se era l'ultima 57 58 miseria 59 è la prossima era la sessantesima cookie c2 parco miseria elettro elettro chiama elettro si si elettro chiama elettro oh oh si l'abbiamo vinto dai e frate l'ho trovato quanto sono contenta quanto sono contenta per te 65 66 67 68 69 ma perché questo ma perché questo schifo oddio questo ce l'ho anch'io ragazzi vede al livello 1 su sayu al livello 1 o un glanzo e e o o o o o o o o Grazie a tutti.